La prima volta che ho fatto Thai Box avevo 9 anni, ho fatto solo un anno di Thai Box, dopo mi sono andato fuori e sono ritornato quando avevo 14 anni e dopo 6 mesi ho già combattuto, ho già fatto un po' di tutto. Lo che mi piace è la Thai Box? Mi piace proprio il rispetto, è un deporte davvero duro e devo essere davvero preparato per combattere sul ring. Sì, perché combatto qua a casa, amo l'Italia, mi piace questo club e tutta la mia vita e sono davvero contento di combattere lì in Torino. Allenarmi tutti i giorni, più o meno 4-5 ore al giorno, è difficile perché se non vado alla scuola non combatto, come dice la mamma. Per me la Thai Box è il mio futuro, mia vita, mia passione, non lo so come spiegartelo, per me è forte. Sì, ho fatto tutto, ho giocato anche il calcio, ho giocato al basketball, ho fatto un po' di tutto, però non mi piaceva tanto come adesso il Thai Box. No, il calcio mi piace quando giocava mio padre, dopo non mi piace, il piccolo fratello gli piace a lui. Il primo mio atleta favorito è mio padre, Carmelo Molto. Il mio padre mi aiuta molto per questo sport, mi aiuta molto quando sono nervioso, vedi quando non sto bene, quando ho paura di andare sul ring, lui mi dice di stare più calmo, perché lui ha conosciuto questo nel calcio. E mio padre è campione europeo, campione del mondo, uno dei migliori giocatori del mondo, anche in Italia, io voglio stare come lui. Sì, noi due lavoriamo tanto sul nuovo sport, e un gol che mi ricordo, ci sono tanti i gol, ci sono tanti, no, per me era sempre contento, quando lui feceva un gol, era contento, sempre.